Lavoratori in stato di agitazione all'Albertazzi di Carpi, azienda specializzata in packaging, dove 66 lavoratori lamentano il mancato pagamento di parte del premio di produzione 2015. Una dilazione del pagamento era stata concordata con RSU CGL Cisle per via dei problemi finanziari lamentati dall'azienda, ma secondo i sindacati la piattaforma di discussione del nuovo piano aziendale non ha fatto registrare passi in avanti. Questa mattina la protesta dei lavoratori davanti all'azienda.